Salve a tutti e benvenuti nel rifugio. Appuntamento con i classici d'autore Disney, siamo arrivati al numero 31 a giugno 2024 con questo bellissimo volume dedicato a Paperino, intitolato Paperino Story, curato interamente nella selezione delle storie, nella realizzazione della scrittura e dei disegni del tavolo di raccordo da Enrico Faccini. Ed eccoci qui con Paperino Story, imprese per i pezzi e papere, firmate da Enrico Faccini, dedicate ovviamente a Paperino, è il compleanno dei 90 anni di Paperino, infatti possiamo vedere il logo Donald Duck 90, abbiamo anche il logo del trentesimo universale di Panini Comics e questo azzurro che la fa da padrone sulla copertina appunto che cita ovviamente il colore di Paperino. Abbiamo la cover che, stando ai credits, è disegnata da Andrea Freccero e colorata da Mario Perrotta, anche se a me lo stile di Paperino sembra sempre quello di Stefano Zanchi. Stefano Zanchi che sappiamo è il copertinista, tra virgolette, ufficiale, anche senza virgolette, dei classici Disney, che sia un refuso, quello scritto in calce al volume, oppure davvero questa volta è stato disegnato da Andrea Freccero il disegno della cover, boh, chi lo sa. Poi notiamo già che la pessima qualità della carta, anche nella copertina, una sola lettura dell'albo, fa vedere un po', diciamo, le crepe nel volumetto, però alla fine, almeno così significa che l'abbiamo letto. Paperino Storie, appunto, storie selezionate da Enrico Faccini, sono storie che possiamo vedere dopo aver letto l'editoriale di Alex Bertani, che ci anticipa anche i prossimi numeri dei classici che andremo a vedere alla fine, e poi abbiamo anche un'editoriale di Faccini stesso, diciamo, che ci dice come per lui Topolino è l'everyman che noi vorremmo essere, mentre Paperino è l'everyman che noi siamo realmente, davvero molto carino come editoriale. Vediamo nel sommario, sono tutte storie di Enrico Faccini, appunto, per quanto riguarda testi e disegni, oltre appunto alla frame story scritta e disegnata sempre da lui. Storie quasi tutte degli anni, dei primi anni 2000, le più recenti sono praticamente quella del 2012 e una del 2019, il resto sono tutte storie che vanno dal 97, 2000, 2001, 2003 e 2007. Possiamo anche vedere come sui classici c'è questo loghino di Topolino, ormai come tutti i fumetti Disney, e questa, ragazzi, copiata all'altro numero dei classici, che in realtà questo è il numero speciale, il numero in uscita a luglio, ormai siamo al terzo anno, che ogni luglio, siccome i classici Disney sono bimestrali, a luglio ne esce uno in più, un numero extra, non numerato, perché possiamo vedere qui che c'è una stellina, e quindi abbinato a quest'altro numero uscito a luglio dell'anno scorso, intitolato Paper Allegria, sempre con storie selezionate da Enrico Faccini, in questo caso il protagonista assoluto era Paperoga, in questo caso abbiamo Paperino, quindi avendo questi due volumi dei classici, noi abbiamo una bella selezione di storie di Enrico Faccini, umoristiche, e che ci fanno sbellicare dalle risate. Ma adesso lasciamo perdere il volume di Paper Allegria, che ho già recensito ovviamente l'anno scorso, e dedichiamoci a questo numero. Il numero inizia proprio con la Framestory, vediamo che Paperino è uscito dal cinema dopo aver visto un film fantasy, che mostrava una specie di parodia di Conan e Barbaro, e quindi Paperino ha il desiderio di essere forzuto e con un fisico muscoloso come gli attori di Hollywood. E vediamo proprio che inizia la prima storia dell'albo, ovvero Paperino e l'apparenza che incarna. Questa è una storia uscita originariamente su Topolino 2384 del 7 agosto 2001, ovviamente scritta e disegnata da Enrico Faccini, dove vediamo che Paperino si farà recapitare per posta una specie di costume che gonfiandolo con delle bombolette di aria compressa simula il fisico di un culturista, mentre vediamo che poi andrà in vacanza con Paperina. Paperina altresì si è fissata invece con una specie di guru della filosofia, potremmo dire della filosofia zen, e quindi vedremo delle gag dove Paperino cercherà in tutti i modi di travestirsi da culturista, mentre Paperina continuerà a invogliare Paperino a leggere libri noiosissimi. Davvero molto molto bella come storia, esilarante, è la tipica ironia e il tipico umorismo di Enrico Faccini. I disegni ad alcuni so che non piacciono, però a me diciamo che piacciono molto, i disegni di Faccini sono molto particolari e rendono riconoscibile subito il personaggio. Vediamo poi la bellezza di avere un autore completo che cura le storie immesse e anche le frame story che sono scritte e disegnate dagli stessi, perché non ci sono stacchi di stile tra una storia e l'altra, perché lo stile è quello, anche se alcune storie sono un po' più vecchie possiamo notare, vediamo che adesso hanno un tratto leggermente più spesso, forse perché appunto disegni in digitale l'artista, notiamo però che alla fine lo stile è identico e quindi sembra davvero tutto un unico romanzo. E proseguiamo con la seconda storia, Paperino e l'autocontrollo massacrante. Questa è una storia che io ricordo, ragazzi, benissimo, perché fa parte della fascia di Topolino che mi è rimasta nel cuore, ovvero la fascia 2100, che prima o poi vi porterò tutta appunto così per farvi mostrare tutti i numeri della mia infanzia, è uscita il 4 marzo 1997, nello specifico sul numero 2153. Questa storia inizia con Paperino che si sta sfogando con Paperino perché non riesce a mantenere la calma e si fa licenziare ogni lavoro in cui prova a essere assunto. E vediamo che Paperino le dà un ultimatum perché arriverà anche un ricco ospite nella sua serata dove Paperino con il suo circolo ospiterà Mr. Foster che è un grande ricco miliardario e Paperino vorrebbe essere presentato a questo miliardario così da poter trovare qualche altro lavoro. E vediamo che appunto Paperino lo mette alla prova e gli dice di andare a presentarsi in questo nuovo tipo di lavoro dove se Paperino riuscirà a non farsi licenziare, se durerà una settimana, allora riuscirà ad andare anche lui a questo incontro con questo miliardario famosissimo. E qui Paperino fa la conoscenza di un collega, il suo lavoro è semplice, deve solo trasferire dei dati, dei documenti cartacei al computer, però questo collega inizierà con una litania molto ma molto fastidiosa con questi chitin e chtan che continueranno praticamente per tutta la giornata di lavoro e a seguire per tutti i giorni. Paperino cercherà in tutti i modi di resistere utilizzando anche dei metodi per non ascoltare le litanie, questi versi che fa il suo collega, come portarsi appunto un Walkman oppure mettersi i tappi alle orecchie, ragazzi Walkman, che stiamo a parlare. Fino a quando appunto vedremo che riuscirà Paperino a risolvere la situazione, riuscirà a non arrabbiarsi, quindi la scommessa sarà stata vinta anche se molto duramente perché ormai Paperino è arrivato al limite fino a quando non arriverà la festa organizzata dal circolo di Paperino e Paperino si accorgerà che il miliardario ospite, altri non è che il suo collega fastidioso che per diciamo rilassarsi dallo stress lavorativo degli affari una settimana all'anno si fa assumere appunto come semplice impiegato e qui vediamo che la storia ha un epilogo molto molto simile a tutti quelli che conosciamo di Paperino. Poi vediamo anche come prosegue grazie alla Framestory e poi abbiamo un'altra storia Paperino e Gastone, il duello tecnologico una peculiarità di questo volume è che abbiamo le prime storie con incentrato solo Paperino come protagonista poi abbiamo quest'altra con insieme Paperino e Gastone e mentre le ultime abbiamo il dinamico duo Paperino e Paperoga quindi un numero davvero completo dove vediamo tutti i cugini e questo ragazzi questa storia Paperino-Gastone il duello tecnologico uscita in origine su Topolino 2689 del 12 giugno 2007 e annunciava veramente il futuro ovvero Paperino dovrà dovrà in realtà si ritroverà a fare una sfida con Gastone per chi ha il cellulare più moderno e più evoluto c'è anche diciamo un riferimento proprio all'evoluzione tecnologica che davvero corre più veloce della luce e ogni 20 minuti esce un nuovo modello di telefono qui Enrico Faccini davvero ha previsto il futuro perché sapete anche voi che oggigiorno esce un telefono ogni sei mesi praticamente un nuovo modello di telefono qua addirittura abbiamo videoconferenze visori per la realtà virtuale guardate queste vignette e ditemi se non mi vengono in mente i nuovi dispositivi della Apple ragazzi quindi davvero Enrico Faccini precursore del futuro poi qua la storia assumerà delle pieghe un po' anche particolari dove vedremo dei dispositivi sempre più caratteristici ecco per dire un eufemismo comunque storia anche questa divertentissima proseguiamo poi con Paperino e Paperoga modelli d'arte ovvero come passare alla storia in punta di pennello questa è una storia uscita sul Topolino 2479 del 3 giugno 2003 dove vediamo Paperino che insieme a Paperoga cercheranno di farsi ritrarre da un noto artista che però non fa ritratti egli imprime nelle sue tele solamente delle scene di vita quotidiane quindi cercheranno in tutti i modi grazie agli aiuti tra virgolette di Paperoga di entrare a far parte della storia ecco ed essere raffigurati in questi disegni in queste opere artistiche proseguiamo poi con Paperino fuori classe suo malgrado questa è la storia più recente dell'albo uscita su Topolino 3319 del 3 luglio 2019 vediamo che praticamente Paperino si ritroverà a essere a fare la parte ecco a sostituire un campione di palla nuoto a causa di sia di Paperoga della sua bocca troppo larga ma anche di un direttore tecnico abbastanza diciamo non onesto ecco potremmo dire della squadra del Paperopoli anche questa storia è abbastanza esilarante ci sono le solite gag e finiscono più o meno quasi tutte allo stesso modo poi abbiamo l'ultima storia anzi no non è l'ultima è la penultima Paperino e le pulizie a regola d'arte questa storia è uscita su Topolino 2947 del 22 maggio 2012 dove avremo come protagonisti non solo Paperino ma anche i nipotini e qui si verrà a creare uno scambio di identità tra virgolette tra i nipotini e dei robot aspirapolvere ecco pulisci casa anche questa storia è carina però è abbastanza breve potremmo dire e poi l'ultima storia è anche una delle più divertenti Paperino e il rituale scaramantico uscita su Topolino 2344 del 31 ottobre 2000 dove vediamo Paperino che dovrà accompagnare ecco un attore famoso per quanto di Zio Paperone perché dovrà firmare un importante contratto di assunzione per la compagnia teatrale di Zio Paperone però questo attore è praticamente molto ma molto superstizioso però a differenza di Paperino lui sfida la sorte e quindi farà fare a Paperino un sacco di azioni ecco che Paperino non vorrà fare e proprio in questo periodo Paperino ha letto un manuale per diciamo fare dei gesti per scongiurare ecco la la cattiva sorte solo che questo attore non gradisce le persone che gesticolano perché in passato furono causa ecco di un suo errore a teatro quindi anche qui vedremo un sacco di gag esilaranti e poi vediamo la fine ecco del volume con il pezzettino finale di Framestory quindi abbiamo un bel po' di tavole inedite su questo numero che ci fa vedere Paperino come lo conosciamo noi ovvero a riposarsi sulla sua poltrona poltrona tra l'altro molto simile a quella uscita di recente ecco come possiamo vedere qui su Topolino poi vediamo l'anticipazione dei prossimi numeri appunto il 10 luglio uscirà il numero speciale senza numerazione dedicato anche questa volta a Fantomius però non tanto a Fantomius ma più a Paperinic perché sarà una ristampa tra virgolette integrale del primo storico classico Disney ovvero Paperinic il diabolico vendicatore e praticamente abbiamo le prime tre storie però con le frame story fatte da Gervasio con protagonista Fantomius quindi sarà una cosa particolare da leggere e non vedo l'ora di farlo quindi se siete interessati come anche ha detto Marco Gervasio andate subito a comprarlo quando uscirà in edicola perché farà la fine di tutti gli altri volumi dei classici dedicati a Fantomius ovvero andrà esaurito mentre ad agosto uscirà la numerazione classica con il numero 32 tutto dedicato a Zio Paperone nel Clonda e che questa sarà curata da Luca Barbieri questo volume ragazzi che dire di questo numero dei classici dedicato a Paperino molto molto divertente mi è piaciuto davvero tanto Enrico Faccini non delude mai con la sua comicità e come ho detto prima accoppiato a quest'altro volume dei classici dedicato a Paperuga davvero è un'accoppiata vincente avremo un sacco di storie di Enrico Faccini con le quali potremmo divertirci fatemi sapere cosa ne pensate di questo numero dei classici se vi è piaciuto se lo comprerete o se l'avete già comprato io con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao